Perché l'Istituto Einaudi Chiodo ha attivato questo nuovo corso? L'esigenza di aprire un nuovo corso del settore servizi sanitari, in particolar modo l'articolazione ottico, nasce dall'esigenza di soddisfare le richieste delle aziende del settore e le richieste di tanti utenti che sono interessati a questa professione. Inoltre, da parte nostra c'è un completamento dell'offerta formativa, visto che il settore servizi sanitari prevede già, nel nostro istituto, già attivi due altre articolazioni, l'odonto tecnico e il socio sanitario. Qual è la particolarità, l'unicità di questo corso? Il corso è nuovo e unico nel territorio spezzino. Le scuole secondarie di secondo grado più vicine che offrono un diploma del settore operatore ottico sono ubicate nel comune di Pisa, di Parma e di Santa Margherita Ligure, provincia di Genova. Quali sono le caratteristiche e dunque anche appunto la qualità degli operatori che andrà a formare questo corso? Sì, intanto questo corso si inserisce nell'ambito di indirizzo del servizio socio sanitario con articolazione ottico. Al termine del cinque anni di studio lo studente potrà conseguire il diploma in ottico e dopo successivamente potrà conseguire anche l'abilitazione alla professione di ottico. È molto importante questo indirizzo perché consente di intanto trovare un rapido e immediato inserimento nel mondo del lavoro, occuparsi anche di quelle che sono le tematiche legate appunto agli aspetti visivi. Quindi poi prima dell'abilitazione, quindi subito dopo il diploma, una persona potrà lavorare alla dipendenza di un negozio di ottica, quindi in qualità di dipendente. Una volta conseguita l'abilitazione alla professione di ottico potrà risolgere un'attività autonoma. È molto importante ricordare che questo corso e questa articolazione di ottico comincerà dall'anno prossimo, quindi settembre 2017, ma le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 6 febbraio 2017. Statisticamente quali sono appunto gli sbocchi lavorativi per questa professione? Diciamo che i numeri da questo punto di vista sono incoraggianti perché le risultanze che abbiamo sia dalle aziende leader del settore ma anche dalle aziende presenti nel territorio nostro provinciale ci dicono che una grande quantità, per non dire quasi la totalità, degli studenti che posseggono il titolo che noi siamo qui ad offrire trovano un'immediata collocazione nel mondo del lavoro.